Quindi alla fine siamo arrivati al punto in cui possiamo consigliare uno smartphone pieghevole occhi chiusi? Con Galaxy Fold 6 Samsung sta cercando di dimostrare esattamente questo, ovvero che è arrivato il momento per tutti di saltare sul carro dei pieghevoli. Ora, tutti tutti magari no, il prezzo è ancora molto alto e se tutti potessero permetterselo diciamo che saremmo sicuramente molto felici, ma forse si è raggiunto un livello di maturazione tale per cui le remore sono comunque molte meno rispetto al passato, ovviamente prezzo permettendo. Quello che sembra un update minore ed è esattamente questa la sensazione che abbiamo prendendo in mano di Fold 6 senza entrare nel dettaglio, è in realtà un aggiornamento che porta a diverse migliorie. Ma è giusto dire che a una prima occhiata non sembra molto diverso dal predecessore perché a livello di design Samsung ha deciso di procedere nel segno della continuità. Lo stile è esattamente quello dei precedenti Fold, ma anche qui c'è stata un pochino di ottimizzazione perché comunque questo Fold 6 risulta più leggero e più sottile del suo predecessore. Nello specifico parliamo di 14,5 mm in meno. Non solo, il nuovo Fold è anche leggerissimamente più basso, ma un pochino più largo. Una differenza che va attribuita al nuovo four factor che porta a un display esterno che è in 22 noni contro i 23 noni del modello precedente. Insomma, un pannello leggermente più squadrato ma che in realtà è ancora più stretto di quello di uno smartphone in formato classico, al punto che serve qualche giorno di utilizzo per riuscire a scrivere ad esempio un messaggio a telefono chiuso senza commettere errori. E anche dopo qualche giorno il mio consiglio è comunque quello di affidarvi a una tastiera tipo la SwiftKey che tende a perdonare gli errori in maniera più efficace rispetto alla classica Google Keyboard. Insomma, in questo caso il passo in avanti è stato fatto ma ancora non è sufficiente. Alternative come l'Honor Magic V2 e il OnePlus Open mantengono una migliore ergonomia a telefono chiuso. Oltre alle misure differenti abbiamo poi anche degli spigoli più accentuati e delle cornici che a retta di Samsung sono state ulteriormente ridotte, specie per quello che riguarda il display interno. Anche la cerniera è stata rinnovata ma rimane quella che preferisco tra i vari pieghevoli per la sua solidità e per la possibilità di aprire il display interno praticamente a qualsiasi angolazione senza il rischio che si apra o si chiuda involontariamente. A livello di materiali di assemblaggio non si può certo dire che Samsung non faccia un bel lavoro. Qui troviamo Gorilla Glass Victus 2 sia davanti che dietro e rimane la certificazione per la resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere che passa da IPX8 a IP48. Qual è la differenza? I modelli prima di Fall 6 non erano sostanzialmente testati per le infiltrazioni di elementi solidi mentre ora ha ottenuto la certificazione di livello 4 quindi per particelle fino a un millimetro. Ma diamo lo sguardo anche ai display che sono ovviamente un'altra componente fondamentale di questo prodotto e cominciamo parlando del display esterno. Come già dicevo è leggermente più largo rispetto al passato con un rapporto di forma più squadrato e una diagonale che ora misura 6,3 pollici contro i 6,2 del modello che l'ho preceduto. Resta invece identica alla tecnologia parliamo infatti sempre di un Dynamic AMOLED 2x mentre cambia leggermente la risoluzione per via della forma differente. Resta invece molto simile la densità di pixel e quindi a livello di definizione siamo esattamente sullo stesso livello. Un discorso che vale anche per il display interno. Risoluzione molto simile e quindi anche una definizione praticamente sullo stesso livello. Quello che cambia con questi nuovi pannelli è il livello di illuminanza. Quella tipica ora si assesta intorno ai 1750 nit che diventano 2600 se parliamo di picco. Valori ottimi e che garantiscono una visibilità ottimale in tutte le condizioni. Sia che si usa il pannello esterno sia che si parli invece di quello interno. Non ho mai avuto problemi di visibilità anche in queste giornate in cui la luce del sole in certi momenti è davvero molto forte. Ovviamente entrambi i pannelli offrono anche un refresh rate dinamico che può variare da 1 a 120 Hz. Insomma non manca davvero nulla e l'esperienza di visione è estremamente appagante specie quando parliamo di contenuti multimediali e ancora di più con il display interno che consente anche di visualizzare il tutto su una superficie molto più ampia. La piega c'è, si vede, inutile negarlo, specialmente con la luce incidente a determinate angolazioni crea dei riflessi che comunque non si possono notare ma devo dire che alla massima luminosità o comunque con dei contenuti multimediali in riproduzione si dimentica velocemente la sua presenza. E continuiamo parlando di fotocamere che sono rimaste identiche nelle caratteristiche rispetto allo scorso anno. Ritroviamo quindi il trittico con il sensore principale da 50 megapixel e lente con apertura fn8, la ultrawide da 12 con un sensore rinnovato teoricamente con pixel un pochino più grandi e quindi in grado di catturare più luce e per finire la tele con zoom ottico 3x e sensore con risoluzione 10 megapixel. Non perderò molto tempo raccontandovi delle loro prestazioni perché i risultati sono sostanzialmente identici a quelli del modello precedente. Di giorno si scattano foto molto buone con tutte e tre le ottiche, ricche di dettagli, con colori belli accesi e brillanti e caratterizzati da una buona nitidezza e un ottimo contrasto. In alcuni casi i colori sono secondo me anche fin troppo saturi ma diciamo che è un po' il marchio di fabbrica di Samsung e quindi se vi sono sempre piaciute le foto dei loro smartphone allora sicuramente vi piaceranno anche queste. Di notte o comunque in presenza di poca luce i risultati restano buoni per la fotocamera principale che riesce comunque a catturare immagini abbastanza luminose e caratterizzate comunque da una buona gestione delle alte luci mentre per quello che riguarda le altre due fotocamere quindi la tele e la ultrawide diciamo che vanno un pochino più in difficoltà, le prestazioni calano un pochino e in questi due casi i sensori più piccoli e lenti meno luminose portano ovviamente a una presenza maggiore di rumore di fondo e anche a immagini che sono generalmente meno ricche di dettagli per quanto comunque restino assolutamente usabilissime per social e condivisione così con amici tramite whatsapp o comunque altri programmi di messaggistica. Anche lato video nulla di nuovo da segnalare i risultati sono godibili tutto funziona come deve eppur non essendo il migliore in assoluto da questo punto di vista si difende senza sfigurare. In generale considerando anche le due selfie camera è un comparto fotocamere sufficiente ma da uno smartphone top di gamma da oltre 2000 euro probabilmente mi sarei aspettato un salto di qualità maggiore specialmente da una generazione all'altra anche perché la concorrenza comunque porta sui pieghevoli dei set di fotocamere che sono davvero top di gamma. Spendo poi giusto due parole a proposito di hardware perché anche qui non c'è nulla di particolare da segnalare se non il fatto che è uno smartphone che va generalmente molto bene. Sotto la scocca abbiamo uno Snapdragon 8 Gen 3 4 Galaxy quindi il chipset Qualcomm top di gamma di quest'anno con una serie di ottimizzazioni sviluppate in sinergia tra le due aziende. Nulla di nuovo è già successo questo in passato proprio con gli ultimi S24 e a questo chipset si affiancano 12 giga di RAM e 256, 512 giga oppure 1 terabyte di storage a seconda della versione scelta in tutti i casi su memorie UFS 4.0. La novità maggiore quest'anno risiede nel sistema di raffreddamento che ha una camera di vapore che è stata raddoppiata in dimensioni rispetto allo scorso anno e questo porta insieme a tutto l'argura prestazioni ottime sotto tutti i punti di vista e a temperature che sono sempre sotto controllo. L'unico momento in cui ho sentito lo smartphone davvero caldo, molto caldo, è stato in occasione di un download di un file da oltre 20 giga durante una sessione di utilizzo intenso, quindi insomma è una situazione abbastanza anomala e che di solito mette sotto torchio più o meno tutti i prodotti. Per il resto le prestazioni sono sempre molto buone, difficilmente si notano micro lag e tutto quanto è sempre estremamente reattivo anche e soprattutto la gestione del multitasking che è il vero fiore all'occhiello di questo smartphone ed è proprio a questo che voglio arrivare perché utilizzando questo Fold per qualche giorno a quasi un anno di distanza dal precedente e avendone tenuti in mano altri di altri brand nei mesi passati, mi sono reso conto che Samsung ha ancora un vantaggio importante lato software su tutta la concorrenza, sia per quello che è l'utilizzo che potremmo definire normale, sia per la componente di intelligenza artificiale. Il multitasking e la sua gestione è l'emblema di questa differenza, si riescono a gestire fino a quattro finestre contemporaneamente, tre fisse e una flottante, ma è un risultato a cui si arriva con una semplicità davvero quasi disarmante, bastano pochi giorni per abituarsi, dopodiché viene tutto naturale e poi c'è anche la possibilità di avere due screen differenziate tra lo schermo esterno e quello interno con widget di dimensioni maggiori e più ricchi di informazioni sul display interno che sfruttano meglio la sua dimensione, insomma sembra una soluzione stupida ma non lo è affatto, alcuni dei concorrenti ancora non permettono questa separazione di ambienti. E poi c'è tutta la parte di intelligenza artificiale di cui tutti stanno parlando negli ultimi mesi ma che nel 90% dei casi secondo me è fuffa. Ecco, a mio modo di vedere Samsung si differenzia dalla massa per aver sviluppato una serie di strumenti tendenzialmente utili e soprattutto per aver adattato questi strumenti al formato foldable e alle diverse dimensioni dei display. Non starò a raccontarvi di nuovo tutti gli strumenti che già erano presenti nella serie S24 e che poi sono arrivati anche sui precedenti fold e flip grazie a degli aggiornamenti ma voglio sottolineare un paio di funzioni che sono state adattate al formato proprio come vi ho appena detto. A partire dalla gestione delle note e dello strumento di riepilogo, uno dei più utili a mio modo di vedere. Potete creare una nota standard con del testo, scrivendolo, incollandolo da documento, dettandolo oppure registrando una conversazione o potete anche sfruttare la funzione OCR della fotocamera. Una volta ottenuto il testo di partenza la funzione riepiloga vi creerà un riassunto per punti del testo trascritto e sfruttando la dimensione del display interno del fold questo riassunto sarà visualizzato nella stessa schermata della nota. Ma non finisce qui, grazie allo strumento di IA generativa per le immagini è anche possibile inserire delle immagini in queste note partendo da uno schizzo creato direttamente al loro interno e che può essere sostituito con i risultati della generazione tramite IA davvero con un click. Uno strumento che è disponibile anche in versione stand alone e a cui si è accesso tramite il comodissimo menu laterale. L'altra novità è legata alla funzione interprete, anch'essa giornata per poter sfruttare il display esterno in modo che l'interlocutore possa vedere le frasi tradotte nella sua lingua madre mentre noi vedremo a nostra volta la traduzione nella nostra sullo schermo interno. Non possiamo poi non citare Portrait Studio che crea una serie di ritratti con stili differenti partendo da un selfie o da una foto ritratto, nulla di nuovo ma i risultati sono molto carini e sicuramente è qualcosa con cui ci si può divertire un pochino passando del tempo diciamo in maniera un po' più spensierata. E infine anche la funzione di composizione automatica dei messaggi che è stata resa più efficace e i testi generati sono sempre più ricchi di informazioni e attinenti alle richieste che vengono espresse. Insomma un'intelligenza artificiale sviluppata su strumenti tangibili e che possono diventare realmente utili nella vita di tutti i giorni. Quello che c'è bisogno per far digerire meglio questa benedetta IA a tutti quanti gli utenti. Bene stiamo però pur sempre parlando di un telefono e quindi è giusto spendere anche due parole a proposito di ricezione e qualità audio anche se come per molti altri aspetti non cambia praticamente nulla rispetto al passato. La ricezione è buona non tra le migliori in assoluto ma comunque soddisfacente c'è il supporto eSIM e in generale anche la qualità audio sia in ingresso che in uscita è più che sufficiente. Esattamente insomma quello che ci si aspetta da un prodotto di questa fascia. E chiudo parlandovi di autonomia anche se pure qui si rimane su standard diciamo classici. Il modulo è sempre da 4400 mAh l'autonomia è sufficiente per arrivare a sera senza problemi anche utilizzando il display interno abbastanza frequentemente. Peccato 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 che la velocità di ricarica sia rimasta uguale quindi sempre 25 watt massimi cablata 15 watt wireless e 4,5 di ricarica inversa. Anche su questo aspetto avrei gradito un upgrade anche perché e qui veniamo alle note dolenti questo Fold 6 parte da un prezzo di listino di 2099 euro che non è certo una cifra contenuta e che sale di 100 euro rispetto al prezzo dello scorso anno. Torniamo quindi alla riflessione fatta all'inizio. Come prodotto in sé questo Fold 6 ha raggiunto una maturità tale per cui non si rischia granché a consigliarlo per quanto resti comunque un prodotto abbastanza di nicchia ma il prezzo è sicuramente un ostacolo che lo rende in realtà ancora un prodotto molto esclusivo. Se però siete incuriositi dal formato e avete questo budget a disposizione allora secondo me qui andate sul sicuro anche per la questione aggiornamenti 7 più 7 e anche per tutto quello che riguarda l'assistenza. Samsung è sempre comunque una garanzia. Bene, cosa ne pensate voi di questo Galaxy Z Fold 6? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e sempre qui sotto lasciate anche un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao!